sono in partenza per il rally di monte carlo 2023 ma non partirò con lei ma bensì con lei sarà un edizione da pazzi fatto così noi facciamo direzione a monte carlo olè grandi col san roche ci siamo siamo arrivati e mi sono accampato con questa soluzione qua di sopravvivenza sacco a pelo 30 milioni di coperte cuscino e direi che siamo pronti per domani un sacco a pelo 30 milioni di coperte cuscino e direi che siamo pronti per domani del rilassano i che stanno trattando ilantonio la piscina la piscina non c'è la piscina il nostro canale il nostro canale e d'un Grazie a tutti 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 Grazie a tutti